Stamattina mi sono svegliata così, macchie, ovunque, non tutto rosso, guardate qua. E per finire, magnifici libidi, giallissimi, la metropolitana. Qui abbiamo un esemplare di Lucia, che si fa lo shampoo una volta all'anno, ragazzi. Questa cosa capita anche a lei. Che emozione, un plurito paolo. Che schifo! Perché non mi lavo mai, guarda, guarda, come mi fa la faccia, scherzando. Oddio, oddio. Io direi che possiamo chiudere qui dopo questa. Ok, io mi sono toccato così, i capelli sono un attimo in fossa perché ho fatto due ricci. Questo è il mio trucco. Non so quanto si riesca a vedere, ho fatto con la... Ok, si era scaricato il telefono, intanto ho messo la cuffia. Comunque, l'ho fatto interamente con la Naked, adesso mi entrai a terra, è un rossetto super scuro, credo. Questo è il trucco. E' uscito uno sopracciglio fuori. Dopo vi faccio vedere con l'assetto. Questo è il mio outfit. Vabbè, c'è la mia mezza manica. Camicia così. Sturzine. E giubbino di pelle. E' una borsa, questa. Ti ho dimenticato. Ciao! Allora, ciao. Ti rirendo, sei provando a fare un altro momento? Saluta! Ciao! Allora, alla fine ho messo un po' di viola in mezzo, così vedete più sicuro. Comunque, adesso andiamo al Campania, un concetto commerciale, però tra un po' dobbiamo aspettare che si preparino le nostre cucine. Quindi adesso andiamo dal... Cino. Dal cinese. Questa cucina. Ah, io vi devo far vedere questi anelli che mi ha inviato una ragazza, però ce ne ho sopra altri. La pagina di Instagram si chiama Beauty Market Online. Andate a cercare. Poi vi faccio vedere dopo gli altri anelli. E niente. Andiamo. Ok. Intanto Lucia è uscita con degli acquisti e io con gli occhiali. Guarda, quella è tutta una schierta. Lì, quella è cosa. Grattiamola. Una grattata in comune. No, sei tutto nero qua sotto. Siamo arrivate. Siamo in scala mobile. Carga batteria a peso. Non si sentirà niente. Carmela, Carmela, saluta. Adesso... No, non si sente niente. Adesso andiamo in un posto di senti. Qui c'è il cinema. Siamo andata a provare il posto dove non c'è la luce. Ciao ragazze. Siamo da Zara. Però... Ammirata. Ma questo non si vede niente. Lo sta inquadrando. Nì, sta inquadrando. Praticamente il... Adesso è proprio bello. Guarda, è nero. Il problema è che è nero. No, non che sia brutto. Però la maggior parte dei miei vestiti sono neri. Suggestione è mio. Sì, quelle sono 50 euro. Non so se sono belle. Ragazzi, cerco scarpe rosse. Eh, sono belle, ma sono bianche. Stiamo nel cinema. E siamo andati a vedere perfetti sconosciuti. Ciao. Ciao, Maria, saluta. Ciao. Ciao. C'è una carmella. I miei cucine. Sì, Federica, non so se si vede a vedere. Quindi li vediamo. Ma penso sia già iniziato tipo a strada. No, perché c'è mezz'ora di pubblicità. Cioè, quando parla se ne va. 10 alle 8. No, perché? Il motocopane da spendere lunedì a venerdì. Si vede, c'è già. Però non penso che venremo da lunedì al venerdì. Vediamo. Fila I. Non siamo. Fila I posti. È tutto buio. Che fila è? Non c'è nessuno. Che fila è? Che fila è? L'amore per il classico. L'amore per il classico. L'amore per il classico. Ciao, abbiamo trovato i posti. Guarda, bebe. Ma lo faccio e l'altro non si vede niente. Guarda, dobbiamo vedere. Secondo me non si sente niente tra musica e roba. Urla vicino al microfono. Ecco. Sentite, ci siete? Ecco, adesso è tutto buio. Vabbè, ci vediamo dopo. Ciao. Ciao. Allora, me lo ho detto perché ho mangiato. Dopo il fila l'abbiamo pubblica. Il mio perché non l'ha mangiato. Perché non l'abbiamo appunto. Ho parlato tanto. Eh, appunto. Siamo tornati a casa. Adesso stiamo avendo la porta. Quindi niente. Non so. E c'è lo setto sui denti. Non so. Guardate come ho messo la borsa. Non so questo vlog quanto durerà. Però lo caricheremo lo stesso. E ci vediamo martedì. Andiamo a mangiare il frasciutto. Martedì con un nuovo video. Ok? Ciao. Vabbè, in realtà ho deciso di continuarlo. Questi ci vedete si sono mantenuti. Vi faccio il video, promesso. Magari la settimana prossima ve lo faccio. E fatemi sapere se vi piace il fatto che comunque sto riuscendo, scusate per il rossetto, a fare uscire i video ogni, appunto, ogni venerdì e ogni, no, ogni giovedì e ogni martedì. È capitato solo, ho fatto cadere tutti i libri, è capitato soltanto che quando c'è stato il Creator Day, che era giovedì, ho caricato il vlog di venerdì, mi sono dato di tutti i quaderni. Adesso mi sto preparando un attimo lo zaino. Però per martedì c'è già, per martedì cosa possiamo caricare? Questo ma... Vabbè, per martedì uscirà di certo un nuovo video. No, per martedì non l'ho ancora caricato, però sicuro uscirà, ci provo. E adesso mi preparo lo zaino, faccio dire anche lo zaino nuovo che ho comprato. E' questo qui. Diciamo che questo è l'unico colore che c'era, quindi ho dovuto per forza prendere questo. Anche se, insomma, un po' color merdina, però vabbè, ma meno stesso. Beh, niente, mi sto struccando, quindi direi che il vlog possiamo anche finirlo qui. E ci vediamo martedì con un nuovo video. E lasciate un mi piace. Mi piace così, mi piace. Se questo video vi è piaciuto. Ciao! Ciao!